Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Volete realizzare anche voi questo pan di spagna così soffice? Guardate che bello! E' morbidissimo! Ed è anche senza lievito! Seguitemi e vi mostro come realizzarlo. Gli ingredienti per realizzare il pan di spagna sono tre. Uova, zucchero e farina. Per le dosi fate sempre riferimento al link che vi metterò in descrizione oppure nel primo commento. Iniziamo! Aggiungiamo le uova nella ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale. Iniziamo a montare aggiungendo lo zucchero. Iniziamo! Musica Il nostro pan di spagna, cioè la montata, sarà pronta quando scrive. Vedete? Adesso andiamo ad aggiungere la farina. Aggiungiamo quindi la farina setacciandola. Vedete? La farina non affonda perché la montata è perfetta. Vedete? Io posso aggiungerne anche ancora. Non affonderà. Adesso con una spatola la incorporiamo, sempre con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come vedete è bello alto per essere stato realizzato con solo tre uova. Adesso io lo taglio e vi faccio vedere l'interno. Ed eccolo qui. Sofficissimo. Spero che si veda bene. Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima. Grazie. Ciao.